Ser Catalano, un successo che probabilmente sa di promozione per il Messina? Ma è un successo importante come un successo sofferto fino alla fine. Sicuramente dopo aver fatto un buon primo tempo pensavamo di aver chiuso già la partita e invece non è stato così. L'abbiamo gestito abbastanza male nel secondo tempo, non è da noi perché in genere gestiamo bene le partite e invece oggi anche con la superità numerica abbiamo gestito male e alla fine abbiamo anche rischiato di varreggiare la partita. L'importante è che abbiamo portato questi tre punti a casa e sicuramente penseremo alla partita di Cosenza con una nota positiva. Avete sfruttato soprattutto l'approccio disastroso del Savoia alla gara. Nei primi 25 minuti tre gol sfruttando soprattutto i calci d'angolo dove i vostri saltatori saltavano praticamente indisturbati nell'area di rigore avversaria. Non so se è d'accordo con me. No, noi siamo partiti abbastanza bene, era quello che volevamo, abbastanza concentrati. Forse aver chiuso la partita già nella prima parte ci siamo rilassati un po' troppo e questa è una squadra che deve vincere il campionato a tre giornate, quattro giornate alla fine non se lo può permettere. Abbiamo fatto questi piccoli errori, ne parleremo in settimana con i ragazzi. Sicuramente è quello che ho detto prima, quello di importante, aver portato a casa tre punti fondamentali per la chiusura del torneo. Domenica sicuramente qualcosa ha i due risultati e quindi vai in campo con una serenità maggiore. Grazie.